Tantissimi disegni di ragazzi e bambini a difesa del lupo. La preoccupazione è quella dell'abbattimento selettivo in Abruzzo, una regione conosciuta soprattutto per la presenza di questo animale. Sì, sicuramente è importante che l'Abruzzo abbia risposto in maniera così forte. L'abbiamo già fatto attraverso la regione che ha espresso il suo parere contrario all'ipotesi di abbattimenti previsti nel piano di gestione che sta portando avanti il Ministero dell'Ambiente. E questi ragazzi invece come gli abruzzesi degli anni 70 che furono i primi a dire no agli abbattimenti del lupo e facendo partire l'operazione San Francesco organizzata proprio dal Parco Nazionale d'Abruzzo insieme al WWF per salvare il lupo, questi ragazzi appunto anche nel 2017 ribadiscono la volontà dell'Abruzzo di salvaguardare questo splendido predatore. C'è stata una grande sensibilizzazione anche a livello nazionale alla notizia degli abbattimenti selettivi. Come si può evitare questa misura? Noi siamo assolutamente convinti che il piano di gestione vada approvato ma che vada stralciata proprio la misura 22 che è quella che prevede gli abbattimenti perché non ci sono le condizioni in Italia per procedere a un sistema di questo genere per il controllo e perché poi questo sistema di controllo è assolutamente inefficace per quanto riguarda i danni che le attività zootecniche possono avere dal lupo. Portiamo avanti tantissimi progetti come WWF attraverso i cani da guardi, attraverso le recensioni elettrificate, attraverso tutti quei sistemi anche di indennizi per quanto riguarda i danni che poi possono arrecare ai greggi che sono delle misure molto più efficaci di quelle che sono invece l'abbattimento.